Sì, perché ho messo i miei piedi su un punto solido, un qualcosa che gira 1660 chilometri all'ora sull'equatore. Sì, è vero, sono la Madonna. Perché quando vi dicono che siete tutti uguali, siete tutte come queste colonne, siete tutte uguali, tutte colonne, siete tutti esseri umani uguali, uno è uguale all'altro, tutti quanti uguali. Ma siete sicuri che siete tutti uguali? No, no. Questa è una cazzata che vi hanno insegnato, ve l'hanno insegnato, non ho lo stabilizzatore. Però guardate se tutte queste colonne sono uguali. Sono uguali? Eh? Vi sembrano uguali queste colonne? No, ognuno di noi è diverso. Ognuno di noi è uno spirito che è stato incarnato in questo mondo materiale per vivere questa esperienza. E come le colonne dobbiamo sostenere il peso di quello che stiamo vivendo. ma siamo uno diverso dall'altro. Ognuno ha le sue qualità. Ogni colonna deve portare il proprio peso e fare la propria esperienza. Ognuno di queste colonne è come ogni essere umano. Ha le sue cose da portare, da sperimentare. Deve viaggiare in questo mondo di materia. perché deve affrontare e superare tutte le avversità. Sì, è vero, sono tutte colonne, ma sono ognuna. Diversa dall'altra. Ognuna unica, come ognuno di noi. Ognuno di… oh